Ulius Frucini, compositore nativo di Praga, allievo di Antonin e direttore di formazioni militari, fu capo musica della banda dell'86esimo reggimento di canteria di Budapest e proprio per la sua banda compose nel 1906 la celebre Florentiner Marsh, eseguita in tutto il mondo dalle più prestigiose bande militari. Ed ora accogliamo con un grosso applauso il nostro maestro. Grazie. 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 Grazie.